Una stagione da ricordare per il settore giovanile della scuola basket Arezzo. La società aretina archivia infatti un'annata di forti emozioni dove ha lasciato il segno in numerosi campionati dall'Under 13 all'Under 19 con ottimi risultati che trovano il loro cuore nella vittoria di due titoli regionali e di una Coppa Toscana riuscendo a confermarsi tra i migliori movimenti cestistici del centro Italia. Ad arricchire ulteriormente la stagione sono state le convocazioni delle rappresentative regionali maschili e femminili di numerosi atleti che confermano la qualità della proposta sportiva della SBA nei primi passi nel mini basket a Nova Verta fino ai palcoscenici nazionali. Un cammino di altissimo livello è stato vissuto dall'Under 15 Rosini e allenata da Umberto Vezosi che con un record di 29 vittorie e 33 partite giocate è riuscita a vincere il campionato regionale Gold simile soddisfazione vissuta dall'Under 14 impegnata nel campionato Elite che guidata dallo stesso Vezosi è riuscita a regalare una prestigiosa doppietta alla scuola basketarezzo e a laurearsi campionessa toscana dopo un cammino impeccabile. Terzo successo infine merito dell'Under 13 di Marco Evangelisti che si è giudicata la Coppa Toscana al termine di un incontro particolarmente equilibrato con il Val di Sieve. Una stagione di particolari soddisfazioni infine vissuta anche dall'Under 19 Amen che dopo aver conquistato il secondo posto nel campionato Toscano Gold ha meritato il pass per la fase nazionale per l'accesso al campionato italiano dove si è resa per 75 a 67 al centro minibasket Tozzano.